Un robot, che non è solo un robot importantissimo dal punto di vista sanitario, ma dice che è il nostro modo di operare questo. Beh, promessa mantenuta, avevo promesso lo stanziamento di 70 milioni di euro all'anno, sono stati stanziati e adesso stanno arrivando i regali al territorio, ovvero questi robot che riescono a operare in maniera assolutamente robotizzata, i cittadini all'addome, al torace, insomma tutta una serie di operazioni che ci permettono di avere meno ospedalizzazione, meno interventi invasivi e più qualità della cure. Pronti via? Si parte già a febbraio quel primo intervento? Primo intervento 2 di febbraio, ma non sarà l'unico di grandi macchinari che presenteremo ai Veneti, perché comunque sono in arrivo delle grandi novità e questa ovviamente è una delle grandi novità. Lunedì prossimo incontro con i direttori generali, perché? Cosa deve dire? Beh, per fare un punto della situazione rispetto alle liste d'attesa, sono dei bei risultati e voglio anche ringraziarli per il lavoro fatto e poi per fare un passo in più, perché abbiamo qualche altra idea per continuare ad essere ancora competitivi, ancora più competitivi sul tema battimento a liste d'attesa e risposte ai cittadini. È una risposta anche a Roma questa, di fronte ai continui tagli proprio sul comparto sanitario? Guardi, Roma propone un taglio di 240 milioni di euro. Noi siamo qui a dimostrare che l'ospedalizzazione media in Veneto è di 7 giorni contro i 30 giorni di alcune regioni del sud. Il che vuol dire che noi curiamo bene, facciamo star poco i nostri pazienti in ospedale e li vogliamo far stare ancora di meno. Questa è la vera sfida e una sfida che ovviamente raggiungeremo.